L'amministrazione digitale è una PA più semplice per i cittadini, in quanto consente di poter fruire dei servizi comodamente online, come facciamo quotidianamente già per la gran parte dei servizi resi dal settore privato. La pubblica amministrazione digitale è un'amministrazione più efficiente, quindi che non solo ci consente di accedere a servizi più facilmente, ma che ci consente di avere prima e in modo più efficace quello che noi vogliamo, di definire la pratica amministrativa che ci interessa. Un prerequisito per il cittadino per non essere suddito e per poter partecipare alle consultazioni della pubblica amministrazione è quello di trovare pubbliche, e ovviamente per pubbliche nel 2015 si dice online, dati, informazioni della pubblica amministrazione. Abbiamo bisogno che non solo le pubbliche amministrazioni rendano queste informazioni disponibili, ma che queste informazioni siano comprensibili per le persone, quindi che le persone sappiano dove si trovano, ma sappiano leggerne, sappiano consultarle, sappiano capirne, sappiano riutilizzarle e che ovviamente abbiano un diritto che negli Stati Uniti e in gran parte degli ordinamenti stranieri si chiama FOIA, Freedom of Information Act, il diritto di poter chiedere alla pubblica amministrazione tutto quello che non trovano, perché soltanto così un'amministrazione potrà essere davvero digitale nel senso di intelligente, nel senso di efficiente. Infrastrutture significa sicuramente la dotazione informatica che devono avere le amministrazioni per essere al passo con i tempi e non utilizzare più la carta e le procedure analogiche, ma investire in un'amministrazione digitale che quindi consente ai cittadini di poter fruire dei propri servizi online significa anche metterli in condizioni di farlo e quindi innanzitutto significa fare in modo che tutti abbiano ad esempio la banda necessaria per fruire di tali servizi, perché è ovvio che servizi che possono essere fruiti in web, specialmente se si tratta di servizi importanti come la partecipazione a gare d'appalto, come il pagamento di tributi, come la partecipazione ad un processo democratico, ad una consultazione pubblica oppure la partecipazione ad un concorso sono delle cose che possono essere fatte soltanto se io ho le infrastrutture, soltanto se ho gli strumenti tecnologici che mi consentano di poterlo fare.